Uomini e donne anticipazioni trono classico, Miuri allascia la trasmissione, Andrea Zelletta dichiara di essere vicino alla scelta Oggi negli studi Ilias di Roma è stata registrata una puntata del trono classico di uomini e donne Secondo quanto riportano le prime anticipazioni pubblicate dal blog newsweb.com, una corteggiatrice di Andrea Zelletta si sarebbe auto-eliminata dalla trasmissione Stiamo parlando di Miuri al che, come raccontato da una talpa presente tra il pubblico, avrebbe spiegato di non sentirsi più motivata a restare Per la corteggiatrice sarebbe diventato complicato gestire gli ultimi impegni di lavoro e questo, sommato al fatto che sente di non piacere più di tanto al tronista, l'avrebbe convinta alla fine ad andare via dall'uomini e donne Non è la prima volta che una corteggiatrice di Andrea Zelletta lascia uomini e donne durante la registrazione, ma l'eliminazione di Miuri all'oggi sembrerebbe essere definitiva Il tronista pugliese, di fatti, ha lasciato andare via la ragazza senza protestare o provare a farle cambiare idea Il motivo è semplice, Andrea sente di essere vicino alla scelta lei, come avrebbe spiegato lui in trasmissione, le sue attenzioni sono adesso tutte per Claudia e Natalia Zelletta, salvo un rifiuto finale, presto potrebbe andare via dall'uomini e donne fidanzato con una delle due ragazze rimaste lì per lui Uomini e donne anticipazioni, chi sceglierà Andrea Zelletta? Fino alla scorsa settimana Andrea Zelletta a uomini e donne aveva dichiarato di essere in crisi Il tronista aveva spiegato di provare un forte interesse per tutte e tre le sue corteggiatrici e di essere attratto, per motivi diversi, da ognuna delle ragazze rimaste nel programma per lui Adesso che Muriel è andata via, però, il cerchio si è ristretto La scelta di Andrea Zelletta è vicina Probabilmente, ma per sapere se lascerà la trasmissione insieme a Claudia o Natalia dovremmo ancora aspettare un po' Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like La scelta di Andrea Zelletta